Andiamo in Sardegna fare canyon in ferrate e spiagge Siamo arrivati in Sardegna e andiamo a fare una delle 6 ferrate di questa isola, la ferrata della Regina e siamo alle spalle di El Ghero e prima di guardare il video mettete mi piace e iscrivetevi al canale Qua comincia il sentiero di avvicinamento per la ferrata della Regina Andiamo! Il primo tratto della ferrata della Regina è tutto strapiombante, è una ferrata difficile per via di questo peso Grazie a tutti! Ecco, ferrata della Regina, più che una ferrata una parete di 60 metri attrezzata con delle staffe in ferro, cavo di sicurezza, la parete è strapiombante per cui lo sforzo si sente e poi si ritorna su delle cenge erbose e ci si sposta in quota, sempre sotto il paese Ecco, finita la cenge erbosa, adesso abbiamo una scala da gru di cantiere per scendere sulla cenge sottostante Discesa la scaletta di ferro, siamo sulla cenge più bassa, proseguiamo in mezzo alla vegetazione e adesso dovremo arrivare al ponte tibetano Grazie a tutti! Ed eccoci qua, siamo all'ultimo tratto discendente Della ferrata Regina Praticamente due scalette che mettono in comunicazione due cenge Quando brisa la luna E' la cima del mondo Ce l'abbiamo fatta! Ok Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!